Ciao a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. In questo video andiamo a proseguire un discorso che abbiamo già introdotto in dei tutorial precedenti ma andremo praticamente a capire come poter scrivere insieme un microservizio. In realtà voglio utilizzare un approccio un po' diverso rispetto ad altri tutorial in cui magari si scrive il codice in modo interattivo. In questo caso io il codice l'ho già scritto, l'ho già pubblicato e ve l'ho messo a disposizione. Quindi il nostro scopo in realtà sarà andare a scaricare quel codice, a visualizzarlo e capire nel dettaglio come funziona. Però lo voglio fare come si suol dire in top down. Questo significa che praticamente prima andremo a eseguire il codice per capire bene le interazioni, come funzionano. Quindi ad esempio lo andremo prima appunto a eseguire, poi lo chiamiamo con un browser, con Postman, sono diciamo degli strumenti che ho introdotto nel video precedente quindi io vi invito prima di seguire questo video ad andare appunto a seguire quello precedente proprio perché vi illustra bene ad alto livello quali sono i concetti che adesso però vedremo in realtà proprio funzionare. Gli altri strumenti propedeutici sono quelli di andarsi a scaricare il codice, ho fatto anche un video per spiegarvi come andarlo a scaricare, il codice che pubblico sul mio repository, sul vostro computer e il secondo naturalmente è quello di installare Docker proprio perché senza avere a disposizione il Docker come strumento non potremmo eseguire dei container in locale sulla nostra macchina. Con questo abbiamo finito questa parte introduttiva e spostiamoci al computer. Bene amici, se avete scaricato correttamente i codici che vi ho già proposto su Bitbucket dovreste trovarvi in una situazione di questo tipo. Quindi siamo dentro la mia cartella tutorial, abbiamo Python e qui vi ho creato una cartellina 04 microservizi. E poi l'esempio che andremo a vedere per questo tutorial qui è nello specifico Microflask Come potete vedere vi troverete due cartelle e due file. Nel file readme semplicemente vado un attimo a spiegare come è organizzato il progetto se volete leggerlo e diciamo integra quello che vi dico in questo video. Invece le due cartelle rappresenteranno i due microservizi che saranno deployati. Il file docker compose invece ci permetterà di andare a capire come andare a istanziare questi due microservizi. Nginx, ricordiamo magari vi ripropongo in sovraimpressione il disegno architetturale visto nel video precedente, è il reverse proxy che ci permette di accedere e interrogare le logiche che sono sviluppate dentro il microservizio Flask. Intanto vi apro l'interfaccia grafica di docker per mostrarvi che in questo momento nessun microservizio sta girando sulla mia macchina, sulla mia istanza docker, sul mio computer. Tanto è vero che se io provassi adesso a interrogare il mio microservizio, qui vi ho già preparato l'url in get, vedete che questo non è proprio raggiungibile, proprio perché non sta girando niente. Stessa cosa se interrogassi lo stesso url tramite browser. Quindi a questo punto come posso andare a far girare questi microservizi che ho già preparato? Adesso lo vediamo. Io per comodità utilizzo quasi sempre Visual Studio Code, quindi cosa facciamo? Andiamo su Open e ci riportiamo nella cartellina che vi ho illustrato prima. Quindi la apriamo e vedete che a questo punto possiamo navigare nel file system, quindi qui apriamo ad esempio la cartella del microservizio Flask. Stessa cosa per Nginx. In questo caso non voglio però andare subito a vedere nel dettaglio cosa contengono questi file. Come vi ho detto andiamo a eseguire il codice alla cieca e poi andiamo a vedere in dettaglio. Quindi apriamo un terminale e con il comando ls, oppure dire se state utilizzando Windows, ci assicuriamo di essere all'interno della stessa cartella dove è presente il file Docker Compose. Quindi adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a definire il comando Docker Compose. In questo caso si sta dicendo di analizzare le istruzioni che sono comprese nel file Docker Compose e tirare su tutti i container che sono definiti in quel file. Quindi vediamo come è strutturato il file di tipo Docker Compose. Vedete che è indicata una versione e all'interno del tag services sono definiti appunto i microservizi. E' importante come in Python che si vada a rispettare l'indentazione. Vedete che i microservizi e le istruzioni che servono per la loro costruzione sono indentati rispetto al tag services. Quindi vedete come queste istruzioni sono definite. Sostanzialmente ci sarà un tag build all'interno del quale si indica la directory che contiene il Dockerfile. Il Dockerfile non è nient'altro che un altro set di istruzioni che ci permettono di capire come andare a costruire l'immagine che poi sarà alla base dell'istanza dei microservizi stessi. Poi qua viene sostanzialmente definito il container name. Viene definito che il microservizio deve essere riavviato in caso di avarie. Tutte le volte ci sono delle variabili d'ambiente. In questo caso si va solo a definire il nome dell'applicazione Flask. E poi si va a definire il tipo di porta che va a esporre questo particolare microservizio. Che come abbiamo definito già nell'architettura è la 6001. Stessa cosa per quanto riguarda invece il microservizio di reverse proxy, Nginx. Vedete? È indicato il path dove è presente il Dockerfile. Si va a indicare il container name, il restart. E in questo caso avevamo definito che il microservizio sarà in ascolto sulla porta 80 e non più sulla 6001. E poi questo microservizio naturalmente dipende da Microflask. Proprio perché prima deve essere buildato questo particolare microservizio e poi successivamente il reverse proxy che appunto andrà a chiamare Microflask. Se adesso andiamo a riaprire il browser e rifresciamo vedete che in questo caso non c'è più un errore ma però vengono restituite delle parentesi quadri che indica una lista vuota fondamentalmente. E aprendo l'interfaccia di Docker vedete come è cambiata. È comparso questo record qua. Se noi lo andiamo a eseguire vedete che abbiamo il reverse proxy attivo in ascolto sulla porta 80 e poi abbiamo questo servizio Microflask. E rappresentano esattamente i microservizi che abbiamo visto nel video precedente. Quindi proviamo a andarli a richiamare con Postman. Nel primo caso abbiamo detto abbiamo una chiamata in GET. Anche in questo caso vedete bene che la risposta sono due parentesi quadri vuote. La chiamata in POST invece la usiamo per andare a arricchire i record. Quindi in questo caso avevo già preparato un payload di prova. Quindi ad esempio possiamo indicare un record che indica ID1 e ci mettiamo Valerio. Facciamo una send. E vedete che lo status ci indica che il record è stato creato. 201 created. Possiamo fare Alessandro ID3 Giovanni. Se adesso andiamo a riaprire il browser e ricarichiamo la pagina potete vedere che la response è cambiata. Sono stati registrati i tre post che abbiamo inserito precedentemente. Un'altra istruzione utile è la Docker Compose Down. Andiamo a vedere cosa fa. In questo caso semplicemente andrà a spegnere i microservizi che precedentemente avevamo istanziato. Come potete vedere restano le immagini ma i container ora sono diattivati. Benissimo. Ora possiamo ritornare al codice e cercare di capire meglio come è stato impostato. Apriamo il caso semplice cioè quello del reverse proxy. In questo caso vedete esistono solo due file. Il Dockerfile che appunto ci permette di andare a eseguire la build e il file nginx.conf. Apriamo prima il Dockerfile. In questo caso vedete che sono riportate semplicemente tre istruzioni. La prima dice qual è l'immagine originaria di nginx. Quindi ci permetterà di andare a scaricare dal Docker Hub appunto questa immagine e aprire questa pagina. Come vedete non si farà altro sostanzialmente che andare a eseguire questa istruzione qua per scaricare questa particolare immagine. E in più cosa succede? Una volta che avremo scaricato questa immagine si andrà a rimuovere la configurazione di default per andare a inserire la nostra configurazione. Cioè per farlo funzionare come vorremmo. Questo particolare reverse proxy. Adesso andiamo a vedere un po' più in dettaglio come è strutturato il file di configurazione di nginx. Nella prima parte andremo a definire un flusso in upstream. In questo caso gli daremo il naming di flask. Semplicemente questo serve più che altro per andare a definire delle politiche più complesse di load balancing che però sono anche out of scope rispetto ai propositi di questo video. Sostanzialmente però andremo a definire qual è il server che sostanzialmente verrà contattato. Quindi nel nostro caso il micro flask in ascolto sulla porta 6001. Sempre facciamo un riferimento all'architettura complessiva che è già stata spiegata. Il reverse proxy invece come abbiamo detto è in ascolto sulla porta 80 e gli abbiamo dato come server name localhost cioè praticamente la macchina locale. A questo punto quando verrà chiamato il server con questo particolare path allora saprà che dovrà ridirigere il traffico sul servizio in upstream. Quindi ho definito http 2 punti slash slash flask. Per flask naturalmente si fa riferimento appunto al servizio in upstream che verrà contattato. e che poi non specifico naturalmente andrà a eseguire il forward della chiamata a questo microservizio, a questo container. Andiamo appunto a rieseguire una chiamata tramite postman. Potete vedere che questo path va a coincidere perfettamente con questa location. Qui viene chiamato 127.0.1 che è localhost Potrei anche definirlo in questo modo e funzionerebbe ugualmente La porta 80 è facoltativa perché è quella di default per una chiamata http oppure posso anche esplicitarla in questo modo. A questo punto invece concentriamoci sull'ultima parte di questo video ovvero sul microservizio flask, cioè il microservizio scritto in python che va a implementare proprio le logiche di comportamento di questa registrazione dei messaggi. Come potete vedere è molto più ricco di file rispetto al microservizio nginx dove sostanzialmente era necessario modificare solo un'impostazione per fare in modo che si comportasse proprio come d'aspettative. In questo caso invece è stato un servizio praticamente scritto da zero. Quindi apriamo per cominciare il docker file. In questo caso vedete che l'immagine di partenza è un'immagine docker già predisposta per python nello specifico per la versione 3.7.7 A questo punto viene lanciato semplicemente un messaggio di stampa che ci va a dire che il container è in fase di costruzione e va a creare una cartella di nome app attraverso questo comando. Poi viene definito sempre tramite il docker file che la cartella di lavoro è la cartella app. A questo punto tutti i file all'interno della cartellina microflask sono copiati dentro l'immagine. E di seguito vengono automatizzate una serie di istruzioni. La prima è semplicemente quella di fare un aggiornamento del container. La seconda, che è questa qui, è la più importante cioè ci permette di andare a installare tutte le dipendenze che sono state definite e che sono importanti per far girare questo tipo di applicazione. In secondo luogo viene fatta un'installazione tramite il file di setup e quindi una volta che tutte queste operazioni sono state completate la build del container è praticamente completata. Manca solo l'esecuzione del componente UWSGI che non è altro che il gateway che permette al componente flask scritto in Python di interfacciarsi anche con container all'esterno. In questo caso Nginx andrà a interfacciarsi con il nostro codice Python appunto attraverso questo particolare gateway. E le configurazioni di questo gateway sono definite nel file WSGI.ini. Qui per facilitarvi il compito vi ho anche scritto un po' quali sono i comandi e i parametri più importanti. Quindi sia per andare a configurare il gateway WSGI sia quali sono le funzioni dei files e delle folder e quali sono le istruzioni se volessimo lanciare il container manualmente. A questo punto apriamo il file requirement.txt e vedete che rappresenta semplicemente una lista di tutte le dipendenze e di tutte le librerie che sono importanti appunto per l'esecuzione di questo programma. Questo appunto è il file WSGI con tutte le configurazioni. Qui potete vedere che il gateway sarà in ascolto sulla porta 7000.1 Questo è il file che contiene lo startup del servizio che in questo caso è WSGI.py Questo qua. All'interno del file l'applicazione chiamabile sarà appunto definita come app. In questo caso vengono anche definiti il multitrading Ci sarà un processo in ascolto con quattro thread Se apriamo invece il file WSGI.py vedete che non fa altro che andare appunto a andare a leggere dalla cartella applicazioni il file controller per importare l'applicazione e a questo punto avvia l'esecuzione di quell'applicazione Quindi andiamo a vedere cosa si è scritto dentro nella cartella app Apriamo il file .controller e potete vedere che ci sono le logiche di funzionamento del componente Flask Quindi viene definita una classe post che espone i metodi get e post e sono quelli che abbiamo utilizzato tramite postman fondamentalmente Quindi nel primo caso viene ritornata la lista degli elementi Quindi possiamo vedere che è stata definita una classe di tipo post di cui il metodo get ritorna la lista di elementi Mentre il metodo post non fa altro che ricevere un payload e aggiungere questo alla lista degli elementi che poi verrà naturalmente ritornata dalla get In questo modo attraverso il metodo apid add resource si va a fare una sorta di bind fra la classe post e il path name utilizzato per andarlo a chiamare che è sempre appunto questo qui api.p1.post In questo caso il framework utilizzato per andare a esporre questo tipo di API è Flask Restplus che aggiunge a Flask altre particolari funzionalità per renderlo più intuitivo da usare come ad esempio l'utilizzo di questa classe qua per andare a esporre i metodi http In caso vi interessasse possiamo magari preparare un video di approfondimento per utilizzare questo particolare tipo di libreria Ora quello che voglio provare a fare per rendervi ancora più comprensibile l'esecuzione di questo container è cercare di eseguirlo non attraverso un container ma andare a eseguire proprio il codice che poi non è altro che l'operazione automatizzata che viene eseguita attraverso il docker file Quindi come si fa? Innanzitutto bisogna andare a creare un ambiente virtuale python quindi Abbiamo creato il nostro ambiente virtuale potete vedere che si è formata una nuova cartellina e a questo punto dobbiamo semplicemente andare ad attivarlo Si fa in questo modo comando source Si può capire che l'ambiente virtuale è attivo proprio perché è comparsa questa dicitura qui a sinistra A questo punto non dobbiamo fare altro che installare la lista di dipendenze non è altro che l'operazione automatizzata che va a eseguire docker e si fa con questa istruzione pip install meno r requirement.txt in questo momento il nostro interprete python non sta facendo altro che appunto andare installare uno a uno la lista delle dipendenze indicate con il comando pip freeze non facciamo altro che andare a visualizzare tutte le dipendenze che sono indicate che in questo momento coincidono esattamente con quelle del file.requirement questo ad esempio qui potete vedere una voce ci va a indicare che è installato flask rest plus in caso contrario non potremmo eseguire quello che prima è stato indicato nel file.controller successivamente ultima istruzione andiamo ad avviare il file di setup per farlo si fa attraverso il comando pip install meno e punto a questo punto abbiamo tutti gli strumenti per andare a eseguire il nostro codice quindi possiamo farlo in due modi nel primo andiamo a chiamare direttamente il file usg.py e sarà semplicemente con l'istruzione usg.py in questo caso potete vedere che abbiamo la nostra istanza flask eseguita sulla porta 5000 ci dice anche che questo qua è solo un server di sviluppo e non si può usare in produzione naturalmente proprio perché non ha le performance adeguate però se noi a questo punto andassimo a sostituire quello che abbiamo scritto prima con http 127.0.0.1 sulla porta 5000 vedete abbiamo comunque a disposizione un servizio che ci risponde sulla get stessa cosa e qui vedete che sono registrate tutte le chiamate che sono state ricevute ora fermiamo l'esecuzione del servizio flask e avviamolo invece attraverso il gateway quindi lo andiamo a chiamare su un altro punto poi cercherò in sovraimpressione di rappresentare sull'architettura cosa stiamo facendo ecco in questo momento quindi andiamo a chiamare il comando usg e il file usg.ini in questo caso non stiamo facendo altro che andare a riprodurre esattamente la stessa istruzione che è indicata in questo punto del docker file ed è quello che avvia il servizio e lo rende operativo come potete vedere abbiamo il gateway che è attivo e ci dice che attivo esattamente sulla porta 6001 che è quella che chiamerebbe il reverse proxy e come potete vedere il servizio risponde esattamente sulla porta 6001 come ci aspettavamo so benissimo di aver messo tantissima carne al fuoco e non è facile andare a rappresentare in modo organico tutte queste informazioni il modo secondo me più produttivo è quello che voi cerchiate di sperimentare attraverso il codice che vi ho proposto e naturalmente ci saranno anche tanti momenti di trial and error cioè di provare e cercare di correggere gli errori anche cercando la documentazione su internet il secondo modo è comunque cercare di spiegarmi nei punti dove dove essere più chiaro in modo che io posso isolare certi tipi di concetti e riproporvele per i proporverli in modo naturalmente più più mirato per aiutarvi ad imparare vi ringrazio tantissimo per avermi seguito fin qui e ci vediamo nei prossimi video grazie mille a tutti ciao da valerio